Buongiorno a tutti, mi sembra di tornare in campagna elettorale, a rinunciare da qualche consigliere che fa qualche posta l'arte senza vedere che lo obbietisce, poi stiamo a tre settembre, ed è uno dei più giovani che albira a fare il futuro sindaco di Cattolio, che parla di cose che non conosce, e questo mi dispiace perché è stato un consigliere comunale da circa otto anni, poi viste da una scuola molto esperta del papà, quindi posso poter vedere le corsine a lui, e cominciando a prendere a piedi, a te lo conoscono tutti i giovani, a tutti i giovani guarda la persona che sta andando, è una zona sotto seguendo, dipende da un bacino d'ambito per il potere politico, noi internazionale di nuova, stiamo scritto provincia, regione, prefettura, per poter risolvere i problemi, parla di Canti Roma, il campo Roma è il divertimento della prefettura, il prefetto allora oggi è un messaggio straordinario di Canti Roma, noi ci siamo interessati, abbiamo fatto una giornata di prefettura per poter risolvere questo problema dei campionati, ma ci sono tantissimi problemi, quindi è rimasto tutta la prefettura, è una giornata ancora più bella, questo è per, come lo prefero, è per parlare a delle persone ignoranti, ignoranti nel senso che ignorano quelle cose, quindi venire qua e non si trova un altro, si è sparata, un cice, non è caso, come lui ne è sparata un altro, la classe, la classe stiamo ancora aspettando, la mattina non si è tornata in provincia, perché voi sapete che la classe c'è la quota provinciale, se non sappiamo qual è la quota provinciale, noi la possiamo mettere in bilancio, e stamattina l'assessore all'ambiente cadendo, ha detto che loro stanno in alto mare, e forse, forse, per il 10 giugno ci diranno cosa ha deciso. Consiglio Comunale Consiglio Comunale Consiglio Comunale Non Legale E mi dispiace che un giorno il avvocato giochi perché gioca Lui sa benissimo a differenza tra legalità, illegalità e legittimità Mi dispiace che qui c'è in tutti i momenti illegalità Sa che se c'è qualcosa non vale mai un altro illegittimo ma non illegale Perché si parla tanto di moralità, verbenismo Io non ho capito a procura sarticolo che mi dispiace come una persona per te Lo d'avvio è la persona per me, lui è come un nome Ti ha detto a sarticolo questo E non c'è un riguardo Allora io non voglio evitare gli attacchi personali come ho detto dal primo giorno Noi sono stato, sono stato detto Però venire in Consiglio Comunale per dire Io, noi, abbiamo vinto delle Vorrei ricordare questo Capito che i campani di strada non sono stati Meno in grado di formare la lista di 24 Noi, ne hanno vinto appena 18, 19, se tu sbaglio Con l'aiuto mio Facendo inserire la consigliera attuale, sosa Rossella Mia amica, mia collega, che non innego Quale sarebbe? Forse la gruppa grata di Rossella è questa, è questa Forse è questa, è un partito Perché faccia fare, fare la maggioranza Però posso si può mettere la maggioranza Allora, questa mi gusta a me, assolutamente C'è parla di mandatuditi, d'accordi, sott'accordi Allora, quello che succede in questa amministrazione, in questa giunta E' tutto vicino dell'Aggiunta Comunale In cui sono sette attenzioni, sindaco, c'è sindaco E c'è il sindaco in generale E' tutta la luce destruta Non c'è niente di trasferno Probate in mente qualcuno a qualche donos Ma il donos ce l'ha in te E sapete qual è il suo da un donos? I suoi affari personali, i suoi affari familiari, i suoi deputiti Questo bentocunti Que? Perciò che quello non va bene Questa lo farà un pizzo La responsabile delle seccole Dentro dei domini Tacca la parca di quando unordo Pittore dobbia composta La politica della giga La polizia della pattaccia Nel 2012 si viene a parlare ancora di la nomination check, di questo si è parlato, di questo si voleva fare, chi ha fatto i genti non ha fatto i genti, ora si sa che i genti sono i loro diretti, guarda un po', prima si parla di farlo, si parla di mettere cosa a posto, noi con la legge comuni abbiamo tagliato il 50% la spesa di 15% nemmeno va bene, scusate ma qual è le cose che vanno bene in questo comune? Le cose personali, ma non vanno bene le cose personali, non vanno bene niente, allora dovete capire i numeri, la formula, le cose, io sono di parola, io rispetto l'accordo sottoscritto con un orlato, con un segretario sottoscritto con un orlato, e dì, mi chiamava dare l'indicazione, fare questo, questo e questo, poi c'è stata l'ultima telefonata in cui io mi sono impegnato che il 30 maggio si approvava il PUC e poi si faceva una fetichica della giunta, non va bene, mi sono venuto a casa dell'allenamento e poi in questione.